tra un petardo e l'altro buonasera lady ghost e lady slaco salutano mercoledì interattivo presto che tardi or dunque come al solito inizio con la spiegazione del mercoledì interattivo perché tutte le volte possono inserirsi nuovi utenti in un video piuttosto che in un altro e le basi le rispiego ogni volta chi ha già le basi o le riascolta o manda avanti il video non is a problem non è un problema in questi video cerco di darvi delle piccole risposte dei piccoli consigli a qualche domanda che vi sta a cuore come lo faccio io non sono veggente con i vivi non faccio veggenze non sono sensitiva con i vivi io sono medium dalla nascita perché li vedo li sento ci piacchiero con i defunti con le altre entità per cose meramente loro tra l'altro e sono loro che mi cercano non sono io che vado a cercarli ci penso manco ma con i vivi non ho sensorialità purtroppo sono empatica ma per il resto non ho sensorialità e non la voglio manca avere resto benissimo così ma mi piace comunque poter in qualche modo aiutare il prossimo e qui mi è venuto in aiuto nel senso vero della parola il librone scritto da silvia di menna sotto dettatura della sua guida di una delle sue guide e oridice che ha fatto uscire questo librone spettacolare delle risposte proprio alle domande ai consigli richiesti all'universo di tutti i giorni gli oracoli delle streghe lucenti infatti sotto dice il libro delle risposte di euridice perché è la sua guida che gliela ha dettate pagina per pagina un po come fanno con me con i romanzi della trilogia dei vampiri e delle streghe che mi stanno me li stanno dettando via entatica solo che lei sa chi è che glieli detta io non so nemmeno chi sia che me lo sta dettando ma qualcuno è ma torniamo al librone di silvia con questo riesco perché è il libro che è valido a dare questi piccoli consigli e queste piccole risposte come faccio io nell'arco di questo video vi do il tempo di pensare a una domanda o a un consiglio che volete per una questione che vi sta a cuore e vi lascio il tempo di scegliere anche accuratamente se la vostra risposta sarà la numero 1 la numero 2 la numero 3 la numero 4 o la numero 5 potete scegliere una delle risposte da 1 a 5 io poi passato un po di tempo che vi lascio per ragionarci bene sopra per formulare anche la domanda al meglio e tutto vi leggerò cinque risposte da due risposte numerati quello che sarà corrispondente al numero che avevate scelto sarà la vostra risposta il vostro consiglio ricordatevi sempre che nulla accade per caso mentre 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 vi do il tempo mi faccio una veggenza una veggenza chiedo un consiglio per me domani mi si sono accavallati due lavori cosa devo fare spostarne uno o cercare di incastrarli in maniera diversa io ho una mezza idea di come mettere la situazione però devo vedere verificare un consiglio puoi fidarti la risposta è sì quindi sì assolutamente devo spostare gli inghesi dice a genova e quindi dopo manderò un messaggio a uno dei due per cambiarne gli orari ora tanto che vi faccio ancora pensare e ragionare sui vostri consigli da richiedere sulle vostre domande io prendo un altro strumento ma questo è uno strumento che uso solamente per me sono le carte del destino di adam green siccome non ho mai tempo sfrutto sempre il mercoledì interattivo tanto che vi devo dare tempo anche per usarle per me e per farvi anche vedere visto che lo chiedete in tanti in quanti modi in che maniere si possono usare via dicendo e qua ciò questa volta ho una domanda particolare da chiedere perché io è tutto il giorno oggi che ho una brutta sensazione di ansia allo stomaco io non sono una persona ansiosa premetto che io non mi preoccupo mai di niente non mi interesso mai di niente difficilmente mi agito praticamente mai chi mi conosce lo sa sono estremamente fatalista in qualsiasi cosa accada quindi tutto ciò che accade normalmente io lo prendo con è così che doveva andare che sia una situazione positiva una situazione negativa e soprattutto quello che sono è che io non mi preoccupo mai ma oggi da metà pomeriggio più o meno mi è venuta una brutta sensazione di ansia allo stomaco che io appunto non ho mai e quindi quella volta ogni mille anni che mi prende per un motivo perso una carta che carta era l'anno prossimo in qualcosa che riguarda l'anno prossimo ma comunque io adesso le mischio e chiedo proprio a cosa può essere legato il mio stato di ansia che è particolarmente strano nel mio caso di oggi vediamo se me le dicono io sono sempre per le risposte sbrigative quindi normalmente giro tre carte non sto tanto a meno che non stia parlando attraverso le carte con un defunto che allora siccome mi racconta determinate cose a volte uso anche fino a sette carte ma se no normalmente per le mie domande personali tre mi aiutano già a capire la situazione voglio sapere a cosa può essere legato questo senso di ansia mi si è sfocato il video che ho da oggi pomeriggio ora vi faccio vedere cosa esce fuori non lo so neanche io le ho messe giù gelosia non credo che non c'entri molto adesso e solitudine a vabbè si può essere legato ma non gelosia intesa come amore quella non c'è non avrei neanche le motivazioni penso più a una questione di oggettistiche mie personali che adesso rimarranno in qualche modo da sole e che un pochettino mi mettono angoscia l'idea di lasciarle da sole perché sono oggetti molto particolari e lasciarli così in balia della solitudine oggetti meramente personali nulla di valore o che ma proprio questo di valore non c'è niente nemmeno il pc che uso che va a cetrioli quindi non è un problema non era quello il senso però piccoli oggetti miei personali che in qualche modo o un po l'angoscia può essere che sia quello che magari in questi giorni in effetti ci pensavo un po può essere che sia quello che mi ha fatto venire su un po di ansia e di angoscia il fatto di lasciarli soli soletti io sono un gufo d'appartamento io sto bene in casa non esco neanche quasi mai in casa non nulla ripeto di valore ma quel poco e quello quell'oggettistica che ho che non ha un valore a economico ma un valore a livello di legame personale io sono estremamente gelosa a me se mi si rompe una penna mi tengo piango per tre giorni cosa che magari non mi succede se succede qualcos'altro ma sono estremamente attaccata le mie oggettistiche ai miei pezzettini alle mie cose e quindi ho questo deficit enorme io mi affeziono anche a una scatola di caramelle per cui non diventerò mai un dalai lama perché il dalai lama di solito professano il non attaccarsi alle cose materiali mentre io sono proprio attaccata ai miei oggetti in una maniera quasi ossessiva e mi piglia l'ansia anche se una persona alza un mio oggetto così solo per guardarlo ho già le sincopi mi viene già l'idea che possa cadere sono a livelli astrusi su quel lato ma sicuramente è quello che mi sta facendo venire l'angoscia lo so ne sono convinta ci hanno perfettamente ragione le carte la gelosia per la solitudine dei miei oggetti personali è sicuro che è quello perché anche tra l'altro ora che le carte di adam green le carte del destino me l'hanno fatto notare in effetti sono due tre giorni che proprio penso a questa cosa e probabilmente oggi è sfociata in un attacco gastrico di ansia lo so sommata ognuno ha i suoi deficit riprendiamo invece gli oracoli delle streghe lucenti e vi do le vostre risposte per chi ha scelto il consiglio o risposta numero uno non mentire a te stesso la tua anima sa già la risposta guardati dentro quindi se hai già la risposta in mano agisci di conseguenza non sperare che la risposta cambi perché non cambia è quella quella che tu ti aspetti in qualche modo bene o male che sia consiglio risposta numero due non sprecare tempo prezioso con chi non ti apprezza lascia perdere anche in questo caso bisogna pulire risposta o questa è l'ansia dello stomaco come gli sbagli poi ora ho pensato all'ansia c'ho ancora più a risposta perché ha scelto il consiglio numero 3 non essere troppo pessimista sorridi di più e attirerai buone vibrazioni e buone persone intorno a te questo era il consiglio risposta numero 3 ora aia mi sono tirata i peli dei petardi risposta numero 4 certo che si ne vale la pena vai questa era la risposta o consiglio numero 4 ultima risposta numero 5 per questo mercoledì interattivo che è il 10 agosto ci saranno comunque nel corso delle giornate in cui non ci sarò fisicamente online lo stesso i mercoledì interattivi quindi ogni mercoledì ci sarà comunque il mercoledì interattivo che ho già preparato anzi tempo tanto nell'universo il tempo non esiste è solo una concettura umana risposta numero 5 del librone di silvia piccoli imprevisti piccole noie ma se ne vale la pena non fermarti ora e insisti quindi anche se ti sembra che qualcosa non stia andando nel progetto nell'idea che stavi portando avanti continua a portarlo avanti perché comunque la strada giusta io vi saluto ce l'avrà adam qua un rituale contro l'ansia questa è un'altra creazione di adam green che è incantesimi nei barattoli dei barattoli e devo vedere se c'è qualcosa contro l'ansia me la devo far passare in qualche modo detto questo vi saluto il mercoledì interattivo è sempre più breve perché comunque una volta dati i responsi non è che posso starci tanto a terci versare sopra lady ghost e lady sadako risalutano io invece pure qua sotto tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po più sotto tre o quattro delle mille mille invece librerie che tengono in vendita i miei libri invece per quanto riguarda il libro degli oracoli delle streghe lucenti di silvia di menna lo trovate su lulu libri di cui vi ho messo anche il link peraltro sotto nelle descrizioni o richiedendolo direttamente a le streghe lucenti che hanno la pagina su facebook invece per quanto riguarda a volte mi chiedete anche questi incantesimi dei barattoli o le carte del destino o adesso non credo che ce ne siano ma di solito c'è anche i kit di purificazione con gli incensi creati da lui eccetera comunque tutto ciò che crea adam green lo trovate nel giardino dei libri sul sito del giardino dei libri visto che ogni tanto mi chiedete dove trovo questo dove trovo quello ho fatto tutta l'escalation i libri miei invece io solo libri scrivo solo libri mi basta ma avanza li trovate su amazon libri ips street lib alcune librerie li hanno messi anche su ebay tutte le librerie del mondo diciamo che quelle che ho inserito qua sotto nei link sono quelle più semplici e quelle più usate da tutti per l'acquisto dei libri detto questo ciao e continuo a fare video da caricare in programmazione rimarrò senza voce per tutte le ferie